Per mia fortuna sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, e cioè dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di mano d'opera, aveva stabilito di allungare la vita media dei prigionieri da eliminarsi. Ero stato catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943. Ihr seid in Monovic, in la vicenda di Auschwitz. Il motto in Auschwitz è Arbeit macht frei. Lavoreremo ad una fabbrica di gomma, per questo l'intero campo si chiama Buna. Heftime, il mio nome è 174517, siamo stati battezzati. L'operazione è stata lievemente dolorosa e straordinariamente rapida. Porteremo finché vivremo il numero tatuato sul braccio sinistro, 174517. Solo mostrando il numero si riceve il pane e la zuppa. Si sono accorsi vari giorni e non pochi schiaffi e pugni perché ci abituassimo a mostrare il numero prontamente. Si sono volute settimane e mesi perché ne apprendessimo il suono in lingua tedesca. 174517! Devo confessarlo. Dopo una sola settimana di prigionia, in me l'istinto della pulizia è sparito. Mi aggiro ciondolando per il lavatorio. È un locale poco invitante, il pavimento coperto da uno strato di fanghiglia. L'acqua non è potabile, ha un odore disgustoso e spesso manca per molte ore. Ecco Steinlauf, il mio amico quasi cinquantenne. Ha torso nudo, che si strofina collo e spalle con scarso esito. Non ha sapone, ma con estrema energia. Steinlauf mi vede e mi domanda se veramente perché non mi lavo. Perché dovrei lavarmi? Che appunto perché il lager è una gran macchina per ridursi a bestie noi bestie non dobbiamo diventare. che anche in questo luogo si può sopravvivere. Perciò si deve voler sopravvivere, per raccontare, per portare testimonianza. Che siamo schiavi, privi di ogni diritto, esposti a ogni offesa, votati a morte quasi certa. Ma che una facoltà ci è rimasta. E dobbiamo difenderla con ogni vigore. Perché è l'ultima. La facoltà di negare il nostro consenso. Dobbiamo quindi lavarsi la faccia nell'acqua sporca senza sapone e asciugarci nella giacca. Dobbiamo dare il nero alle scarpe. Non perché così prescrivi il regolamento, ma per dignità, per restare vivi, per non cominciare a morire. Come si fa? Numero 174.517. Primo Levi. Die numera ist genug. Wo und wann sind Sie geboren? A Torino. Sono nato a Torino 1919. Studium? Sono laureato in Chemica. Gut. Wo und wann? A Torino. Sono laureato nel 1941. Summa cum laude. Sehr gut. Haben Sie schon gearbeitet? Sì, ho lavorato due anni in acciaieria. Analisi di acciai speciali. Sehr gut. Un dann? Poi mi hanno licenziato. Ah. Warum? A causa delle leggi razziali. Ah. Per rientrare alla bude bisogna attraversare uno spiazzo ingombro di travi e tralicci metallici accattastati. Il cavo d'acciaio di un argano attraversa la strada. Alex lo afferra per scavalcarlo. Tonaveta! Ecco. Si guarda la mano nera di grasso viscido. E senza odio. Senza schermo. Alex si strofina la mano sulla mia spalla. Il palmo e il dorso per netarla. E sarebbe assai stupito. L'innocente brutto Alex. Se qualcuno gli dicesse che alla stregua di questo suo atto io oggi lo giudico. Lui è Pandic. E gli innumerevoli che furono come lui. Grandi o piccoli. In Auschwitz e ovunque. Il vecchio Kuhn prega. A voce alta col beretto in testa dondolando il busto. Avanti, indietro. Avanti, indietro. Avanti, indietro. Kuhn ringrazia Dio perché non è stato scelto. Kuhn è un insensato. Non vede Kuhn che nella cucetta accanto c'è Beppo il greco. Che a vent'anni dopo domani andrà in gasse. E lo sa. Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua volta. Non capisce Kuhn che oggi è accaduto un abominio. Che nessuna preghiera propiziatoria. Nessun perdono. Nessuna espiazione dei colpevoli. Nulla che sia in potere dell'uomo di fare potrà risanare mai più. Se io fossi Dio sputerei a terra la preghiera di Kuhn. Se uno trottisce il vero, sarà il stesso punto di vista di questo vero che si vedevano. Heil Hitler! Hai capito? Javò. Chi rispose? Tutti e nessuno. Ma tutti udirono il grido del Morelte. Kamara! Ich bin der Letze! Compagni, io sono l'ultimo. Il grido del Morelte penetrò il centro vivo del uomo in ciascuno di noi. Le SS ci guardano passare con occhi indifferenti. La loro opera è compiuta. E' ben compiuta. I russi possono ormai venire. Non vi sono più uomini forti fra noi. L'ultimo pende ora sopra i nostri capi. non troveranno che noi domati, noi spenti degli ormai della morte inerme che ci attende. Distruggere l'uomo è difficile. 27 gennaio. L'alba. Quattro giovani soldati a cavallo. Apparivano fra il grigio della neve e il grigio del cielo. Quattro uomini armati, ma non armati contro di noi. Quattro messaggeri di pace dai visi puerili sotto i pesanti caschi di pelo. Quando giunsero ai reticolati sostarono a guardare. Non salutavano. Non sorridevano. Apparivano oppressi. Oltre che da pietà da un confuso ritegno che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota. Quella che ci sommergeva dopo le selezioni. Ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare ad un oltraggio. La vergogna che i tedeschi non conobbero. Quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa ad altrui. E gli rimorde che esista. Sostammo in piedi presso la buca ricolma di membra livide. Poi rientrammo con la barella vuota. A portare la notizia ai compagni. A portare la notizia ai compagni. A portare la notizia ai compagni. Grazie a tutti.